Buonasera, sono le 23 e 23, hanno appena finito il concerto e adesso hanno attaccato il concerto dei tamburi. Che per carità, i tamburi, per carità, io capisco che tu hai mal d'Africa, che vuoi rompere la monotonia, ma ora fra un po' gli vado, ma ora te lo dico che cosa stai rompendo. Abbiate pazienza, sono neurocate comunali. Bene, 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 tutto bene, la veglia è andata bene, il papa è stato bravo. Grande papa. Abbiamo deciso che il nuovo sponsor del Vaticano sarà Divani e Divani. Per capire questo dovete riguardarvi lo streaming della veglia. Buonanotte a tutti, ci vediamo domani. Che che c'è? Dobre noz! Dobre noz! Dobre noz! Ciesci, ciesci!